Cosa c'è negli uomini? Una voracità, una bulimia che inghiotte tutto. La luce, l'aria, il silenzio. Ora il giardino ruota su se stesso. Il giardino, sotto questo enorme peso, si sta poco a poco sgretolando. Sembra ammalato. E non c'è più la strada del ritorno. E non c'è più tranquillità.